Anca C'è lui Fine del riscaldamento Si aprono le danze Rispetto al Gravel M1 ha un rinculo incredibile Rosca, altro che il fermo E non so ma Da vicino è più forte è chiaro Perché c'ha un bel danno però Eh dove andiamo? Eh eh Ah beh Ah beh Ah vabbè Promenade Promenade Mamma mia alve E fattisco le alte fatti A Torrione Eh ma Ma i camper Promenade Eh potrebbe essere un po' francese Promenade Promenade E senza lei però Promenade Promenade Perché non c'è l'accento C'è lui Bersagli disponibili Al lavoro Incredibile Sono finito Nella Nell'unica porta che non siamo persi Pure che malottone Cassa di scorte Posizione contrassegnata Ah io io non ho armi Vado io ad apri così Vabbè C'è una cassa qua Per quello che nessuno di noi abbiamo Ho trovato una FR Ah bello Una K Ho trovato una K Io Dio una Claymore Se vi interessa Una K E una Molotov C'ho Mannaggia Lui a sto cosa Sta solissimo Macchina Vai giù Eh l'ho visto Ma sta solo lui Capo andiamo 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 a sta cassa Ho trovato una K Terribile K Dai l'ho fatto la cassa che vuoi fare Ragazzi questi sono atterrati sopra di noi eh Sì Obiettivi aggiornati Passare alla nostra area Eh c'è un fucile Credo ci sia qualcuno qua Eh ma Eh Ragazzi qua qua devono fare la conquista Venite qua Venite da me Venite da me Eh non ho munizioni Eh ma siamo qua wakio Stando No ho una piassa Sì Comunque se volevate c'era la M4A1 Vabbè vogliamo andare Vogliamo andare a fare il Contratto Continuiamo Ce ne fottiamo In teoria devono venire qua Questi sono venuti Eh ma in teoria Sono venuti con l'elicottero Secondo me No Non sono questi Albe Secondo me quelli con l'elicottero E' solo gente Guardate che cazzo Ah boh andiamo Albe dove era la M4A1 Ah ecco ho trovato Oh giù Trovate 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 Non vi perdete per un M4A1 Mi raccomando In movimento Come sai esce a cattino Vabbè apro io Ormai l'ho presa Dai che magari arriva da voi Passare alla prossima area Eh infatti Guarda più di io che salta Ah vai Johnny Ormai Venga venite qua Che andiamo al carrello Ci vediamo al load out Aspetta però Da che mi svolge Sparano Ho messo a terra No Per me è solo Eh per ora si Mi è arrivato di faccia voglio Non potevo fare diversamente Tensore Ci hanno preso Terra Ehi In avvicinamento Altro No non c'è Ehi mor piazzata Mi dicevano Ci hanno fatto il load out Da dietro da dietro da dietro Ah beh Già lui entra dentro Già lui entra dentro Che cazzo fai fuori solo tu Porca miseria Eh questi qua sono quelli del Del post Eh si Ok Sopra Siamo nella zona sicura Ma questo è uno solo nell'elicottero voglio Cioè uno che si farà la partita così A romper cazzo Ragà ehm Già all'utti Allora ce ne sono due 23 metri Qui ci sono corazzi E' troppo a misoldi tu Da questo lato Sono quattro ragà Sono quattro Eh sono quelli del contratto al bene Oh sta uno qua sopra Oh sta uno qua sopra Ho messo a terra Vai 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 Sta qua sopra nell'altro Quattro cosa Però sta rascendendo E' ancora da L'ho ucciso Occhio se viene Un'altra Ma è su cosa va Sul tetto Lasciate la playmour giù E' spaccato Ragà vogliamo andare via Prendiamo il loadout e ce ne andiamo? Si 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 Ah scendi tu Un coperno Io ti vado da sopra Lo sta super re Eh dove andiamo a tirarlo? C'è uno Oh lì 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 Un team Un altro là Ok con calma Mi sparano Mi sparano Dove andiamo? Eh raga Moi mi accerimo prima a chissi Prima di dire dove andiamo Ritorniamo dentro No mi sparano Mi sparano ho sparato una terra uno la dietro è a terra un altro ok ti manientato vai raga tiro il coso raga compratevi le piazza del carrello vai giù te vi lascia i soldi vado qui giallo ce la fai dì me le hai lasciate d'armi ma io le comprerò di nuovo perché me le devo caricare ma c'è la sacca se no le compro io che ce ne prendo di più raga non perdete troppo tempo e rientrate dentro non perdete troppo tempo si è apertissimo se fate un acquisto veloce se non sti cazzi veramente ci perdete troppo tempo a stare aperti così si fanno acquisti veloci rapidi ok decidiamo come muoverci vai giù mi accompagnate vai giù si si è un po' laggante questa partita comunque si ha fatto un pass in arrivo alla nuova zona raga però c'è gente che spara là davanti copritemi dopo torniamo indietro vai giù preso vai 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 nemico in discesa nell'area operativa aspetta chissà ma accido perché viene a carrello vai ti mani in da eh arma accido perché sennò vissuoso via la guru eh l'ha fatto tu guru loadout scassavo cazzo aspetta ci vogliamo fare il contratto oh vogliamo fare il contratto eh vabbè va bene è rotto questa situazione cassa di scorte indiscata posizione contrassegnata già lo vieni da noi che siamo in quest'altra casa arrivo arrivo vado a facciamo no si più che altro per le munizioni perché io sto un po' senza non era questa la casa per le munizioni no prima sono senza munizioni eh raga dobbiamo si lutiamo però raga vicino a quella bandierina non so se la vedete oltre il carrello c'era qualcuno che spara occhio occhio macchina macchina c'avevano il messi a terra tutti e tre bravo già lui vale a uccidere vale a uccidere vale a uccidere bravo già l'ottimo ma lutta 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 la prende due carri questi c'hanno un sacco di roba oh è una maschera raga due maschere raga maschera maschera serve a qualcuno presa ma questi c'hanno anche la scheda che bello dai da veloce a lutta questa vabbè adesso sto bene c'è una sacca qua sacca eh la sacca me la piglio eh prenditela eh se me la fa pigliare manca solo a me la ah ce l'ho già ce l'ho già ce l'ho già vai io ce l'ho già io no non ce l'ho va bocca niente ma vai vuoi andare ad aprire la cassa e mi prendo una maschera e un scarrello comunque io ho buttato il c4 ma ci avevano i trofi quindi il mio c4 ha distrutto il trofi il tuo rpg ha ucciso la macchina praticamente sì ma vatti a vedere come è arrivato questo rpg poi nella live eh vabbè a prescindere è stato bravo è stato bravo andiamo indietro raga dai è andata con tanti e mamma mia ma ne mi dicevamo pure eh sì ce la siamo però vai u quelli che vengono qua fino a mo hanno fatto una brutta fine cioè voglio dire almeno questo abbiamo eliminato tre team abbiamo eliminato albe eh raga io non ho fatto nessuna uccisione perché sei abituato col tuo team di camperoni albe lo sapevo lo sapevo bravo bravo vabbè mi prendo sto fucile oh ragazzi c'è uno che stanno lì raga davanti a noi proprio dove sta la piastra scusami il contratto oh ragazzi attenzione all'elicottero moccero adesso provo a far gist tutto cazzo comunque allora questi due stanno senza senza armi sicuramente mi sa che so gente che mannaccia eva mannaccia sparato no no ero caduto giù vai capisco dalle oh sono così sono così abituato che dalle impregazioni che dalle impregazioni riesco a capire cosa è successo ah io non li vedo a questo eh no si sono buttati giù dall'altra parte albe il problema è che stanno proprio verso l'albe che in realtà ma non ne abbiamo bisogno vai giù a di quella abbiamo tutti la sacca cioè stiamo tranquilli vogliamo andare in quest'altro edificio e perché non l'hai presa tu quella eh perché poi alla fine mi stavo buttando giù tra l'altro ho capito che sia ancora lì eh sarà ancora lì effettivamente la fermata del pullman questi sono quelli di prima che stanno trovati con qualcuno non siamo giallo perché si è andato lì che cazzo mannaggia mannaggia non è in quell'edificio lì avevo detto vabbè ma dove sei andato di ragà io sono nell'edificio dove ho detto eh sì vabbè vieni qua vieni qua vieni qua dai che ci sta la sacca non ho capito non ho capito l'edificio di pensavo intendessi la cassa ah beh sta là dietro la dietro comunque ci dobbiamo muovere andiamo dall'esterno andiamo dall'esterno andiamo lì ok dove ho pingato blu ma scusa non l'ha aperto sta cazzicata no alvele hai presa la sacca sì 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 passiamo dal scarrello compriamo tutti un UAB visto che abbiamo questi soldi eh abbiamo l'UAB ho un bombardamento no no UAB UAB io lo tiro subito e voi vi tenete tieni alve ti lascio 500 per prenderlo anche tu io lo tiro io lo tiro subito così per il movimento voi il velo tenete e io che devo prendere da? sempre UAB tutti UAB sempre UAB così vediamo ci abbiamo il centri ok infatti gente a sinistra è importante saperlo eh vi vedete questi a sinistra nell'UAB sì 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 eh tagliamo di così e poi ce li troveremo davanti cioè ce li troveremo dietro diciamo li dobbiamo tagliare prima di loro attenzione UAB arriva il gas quindi ogni tanto buttammo un occhio perché lì si stanno sì sì stanno alla nostra sinistra e saranno venendo da noi quindi eh sì anche loro devono avanzare quindi perciò dico però li uccidiamo UAB basta che arriviamo lì e guardiamo indietro e noi sappiamo che loro ci stanno loro non sanno che ci siamo noi quindi questa è la differenza ok io adesso un altro lo metterei UAB vado io vado io ok Gianluca Gianluca vado io vado io vado io con le colline ho pure a destra adesso oddio adesso comunque sta puntando verso sì sì ma siamo qua vado questi da qua devono passare ce li leviamo dai qui qua c'è un bello qua si sanno bordo bordo safe mi sa eh vado quindi da me anche occhio eccolo la uno bersaglio qui so eccolo la eh altro la eccolo l'altro ok vai raga l'altro sta dietro a quell'albero ed è spiastrato uno è proprio di fronte a me questa è a terra 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 l'altro si è scappato ok eliminato l'altro sta dietro a quell'albero l'altro sarà alberi che sei apertissimo sarà a sinistra l'altro eh occhio perché era più giù di là finito già lui l'ho finito io col cecchino manca luce manca luce mi stavo sparando da sinistra da là è da sinistra sparavo ma non do cazzo sta al piedi putt vabbè voglio deve avanzare c'è il gas deve avanzare quindi lo vediamo state tranquilli eccolo eccolo nemici in zona vabbè 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 bella bella voglio questa è una buona giocata si fa così oggi ti fa così ma così se fa quante volte l'abbiamo subito siamo abbiamo fantasma noi siamo tranquilli sta qua vicino albe metti tu l'uavvia adesso uno di fronte sulla montagna dove alber ci hanno preso la macchina dove sta l'uavvi raga è qua è perdendo terreno da occhio dove ho pingato io si si sta vicino a voi e anche se riusci a assagire vai faccio la faccio si infatti state attenti ma io guardo un po dietro anche perché vabbè provo a salire prima però perché sono qua sto scopertissimo allora su oh però se l'ha visto l'uavvito dovrebbe vederlo pure il ping no si può darsi che si sia spostato più in là però capi perciò non lo vedi più ecco raga dietro qualcuno dove è dove è arrivo 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 io gli ho tolto un po di corazza comunque dietro ce ne abbiamo due sono due uno è a terra ho visto a uno l'ho spiastrato si sparano là sopra eh sono quelli là stanno sparando a qualcun altro ecco l'antensi eh non vedo più c'ho l'albero vabbè comunque raga occhio occhio ma state su ma guardiamo di qua ok stanno davanti ragazzi sparano là sopra da noi stanno là si è andato troppo giusto non resta molto tempo adesso sta qua eh raga occhio no andiamo da david perché questi qua ci hanno visto che gli altri no raga sta là sotto uno a sinistra dell'albero da là diciamo vedo movimento ok ok vabbè raga dobbiamo proseguire un altro po' venite venite raga eh però ci andiamo dritto di fronte ci abbiamo quelli eh si si eh voglio eh si va e però li possiamo però li possiamo pingare ah stanno con la macchina capi piano piano raga state giù ragazzi si sono uccisi qua eh nemici in zona ho dei passaggiamenti letali vicine d'assalto qui ahi dobbiamo scendere ragazzi in avvicinamento cerchiamo di arrivare qui mi sposto qui però abbiamo tutte e tre le maschere ricordatevelo prima di morire come i cazzi e siamo proprio al bordo che è pulito eh si secondo me sono scesi raga perché sennò eh per forza quindi è capace di ritrovare i palazzi da davanti eh vabbè è sicuro perché sanno macchine ragazzi io tengo un occhio a sinistra io di qua l'occhio però brutta situazione siamo apertissimi dai corriamo fortunatamente questo non ci vede però il carrello mi sa che è quello l'acqua che l'hanno preso fare un po' a destra passa attento io sto andando su ragazzi c'è qualcuno su sicuro sento i passi ah no sta qua sotto sta qua sotto aiuto qua sotto qua davanti qua davanti ha sparato ok state un po' giù giallo c'è una mina mettila qua vado qui alla scala mettila qua spari a destra eh questa cerchinata forse era per no è uno sotto ragazzi è uno sotto si te l'ho detto è quello di prima ho messo una terra lì due a terra eccolo là 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 dove albe dove dove aiuto perché non pingate non funziona non funziona dove sta la mano lascia te stare va anch'io ho trovato un veicolo la stanno in quella casa eh sì no io a quelli la l'ho messo a terra uno è a terra c'è un altro team ragazzi abbiamo uno sotto proprio sotto di noi a cui dobbiamo stare molto attenti infatti lo stanno si stanno sparando pure si stanno sparando ah quello l'ho fatto quello al centro vai giù sto facendo delle cecchinate qualcosa di incredibile siamo in unici comunque ragazzi là uno occhio se si muovono questi vai giù mi hanno colpito eccole eccole dove vai uno li vede ok uno l'ho messo a terra vai l'ho finito io l'ho finito io ecco il là albe pensiamo a queste albe non dovevi sparare a quelli cazzo vai a terra a quello andiamo vai giù attento dietro da ecco l'ho fatto è sotto destra 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 ah è ucciso l'ho ucciso a questo è andato l'ho ucciso pure a questo cazzo mi devo mettere piastro ragazzi abbiamo il team che stava davanti a noi stanno lì davanti siamo rimasti noi questi due team siamo solo noi stanno qua vedo movimento stanno là dietro ok raga devono venire loro vai giù non venire mi faccia a loro albe perché non ti metti dentro un albero o qualcosa perdiamo terreno forza alberello eccoli trattato trattato che mierda cogno bruta noi a terra trattato a terra ne ho ucciso uno albe l'altro sta soffrendo eccolo è vivo abbiamo vinto abbiamo vinto siamo vinto siiii dai raga grandi 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 questa è la mia miglior partita di sempre ho fatto dei danni clamorosi clamorosi ragazzi alla fine 7 uccisioni io non ho fatto grandi uccisioni però gli ultimi li ho ucciso io bella bella bravo 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 vedi la differenza di danni io ho il triplo dei due danni però non ho il triplo delle due uccisioni si 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 bella ma questo è stato veramente 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 anche perché ragazzi l'abbiamo ucciso tutti eh l'abbiamo ucciso tutti senza camperasi bello bello 18 uccisioni avevo fatto fuori 6 team bella 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 bravi ragazzi ho fatto schifo anche tu hai vinto con noi dai mi manca solo Gilberto grazie albe grazie adesso com'è la sensazione rispetto agli altri amici che camperano vabbò bella partita ottima ottima poi siamo stati fortunati anche col fatto che loro sono dovuti venire da noi alla fine però però ce la siamo meritati bella 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 vabbè raga pace ci vediamo la